ragazzi buonasera ragazzi rieccoci una nuova avventura stasera ci troviamo di nuovo a ricola uscita in solitaria c'avevo un po di esca da consumare che mi era rimasta dell'altro giorno e ho preferito consumarla anziché farla morire dai ragazzi questa è la mia postazione esca russa bellissima bella veramente ragazzi belli dei capi coreano bello vivissimo non ci pescavo da un paio d'anni penso col coreano ce l'abbiamo e lo consumiamo dai ragazzi prima canna montata la tridente evocast è già in acqua con dell'area nicola invece questa qui col coreano paratura che abbiamo fatto mini trave terminale lungo circa un metro metro e 20 e del coreano russo bellissima dai ragazzi lanciamo pure quest'altra canna e attendiamo a tra poco ragazzi pesce in canna si è fatto una bella partenza proprio di la verità iscriviti a la città iscriviti a l'area a a a in più in più Alla prossima 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 Eccolo Alla prossima Alla prossima Alla prossima